Un ben ritrovati da Ghinzani Store, un ben ritrovati da Andrea, da Lara la mia collega. Siamo qua anche in questo momento un po' così sfidante, dai chiamiamolo così. Siamo qua con tantissime novità, tantissime offerte che sicuramente vi potranno un po' aglietare la giornata e sicuramente avremo l'opportunità giusta per le vostre esigenze. Iniziamo subito con la prima offerta e partiamo subito con questa magnifica Peugeot 2008 GT Line. Appena arrivata in salone si tratta di una vettura a chilometro zero, motorizzazione diesel 100 cavalli Euro 6, allestimento GT Line completa di ogni accessorio, qui abbiamo addirittura oltre al faro a led anche l'interno in pelle con massaggio e sedile riscaldato. Unica vettura disponibile, offerta imperdibile perché partiamo e parliamo di un prezzo magnifico di 27.900 euro. È un'auto che supera i 35.000 euro di valore di listino e noi la proponiamo solamente a 27.900 euro. Si tratta di un chilometro zero, una delle offerte spotty card di questo mese imperdibili. Quindi parliamo di un chilometro zero 2020, 27.900 euro è il prezzo incluso di passaggio di proprietà, possibilità di finanziamento con anticipo zero e le prime 36 minirate da 279 euro. Avete capito bene, soltanto 279 euro al mese per circolare, per viaggiare con questa magnifica Peugeot 2008 GT Line. Vi è anche l'opportunità di aggiungere con 30 euro al mese il nostro pacchetto assicurativo furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali e cristalli, senza franchigia e senza scoperto. Un'offerta imperdibile del gruppo Ghinzani Store che possiamo abbinarla a questa magnifica 2008 ma anche a tutte le vetture che vedremo successivamente. Passiamo a questa magnifica Opel Corsa, una stupenda Opel Corsa, la nuova Opel Corsa, 1.5 diesel, 100 cavalli, euro 6 di temp, proposta nell'allestimento Elegance. Di queste vetture abbiamo soltanto tre auto disponibili in pronta consegna. Si tratta sempre di chilometro zero, parliamo sempre di vetture del 2020, allestimento Elegance che presenta già di serie cerchi in lega diamantati neri, faro LED, connettività con il proprio telefono, monitor touch chiaramente, clima automatico, bluetooth e sensori, vettura che proponiamo a un prezzo unico di 15.900 euro. Come stiamo proponendo sui nostri social, per tutto il mese di novembre, Ginzani Store non abbandona ma raddoppia, finanzi l'acquisto, extra sconto non di 500 ma ben di 1.000 euro. Quindi finanziate l'acquisto qua da noi, vi proponiamo su tutte le nostre vetture in pronta consegna un extra sconto di 1.000 euro che porterebbe questa magnifica vettura a un prezzo esclusivo di 14.900 euro. Continuiamo in casa Opel e parliamo di Opel Mokka. Per questa vettura abbiamo un'ampia disponibilità di prodotto sia aziendale che chilometro zero. In questo caso presentiamo una magnifica Mokka X 136 cavalli diesel con solamente 15.000 chilometri. Parliamo di una vettura accessoriata di ogni particolare, dalla telecamera al cerchio in lega maggiorato, sensori anteriore e posteriori, navigatore, connettività e tantissimi altri particolari. Prezzo esclusivo che trovate solamente qua in Ginzani Store. 17.900 euro. Si tratta di una vettura selezionata da Spoticar, quindi una vettura periziata, controllata e garantita minimo 12 mesi da tutto il gruppo Spoticar. La trovate qua da noi in salone, potete pronotare una visita qua da noi, venire a provarla su strada e valutarne chiaramente anche le proposte finanziarie che abbiamo dedicate su questa magnifica vettura. Continuiamo con l'offerta in casa Opel e passiamo a questo magnifico Opel Granda che potete trovare qui da noi sia nelle motorizzazioni 1.200 benzina 130 CV che nella motorizzazione 1.500 diesel sempre 130 CV col motore D-Temp Euro 6. Cambio manuale o cambio automatico. In questo caso vediamo una magnifica 1.500 diesel cambio manuale, allestimento Innovation, presentata nel colore grigio-artense con il tetto nero e i cerchi diamantati neri. Vettura che supera di listino i 35.000 euro e che noi proponiamo ad un prezzo veramente imbattibile di solamente 21.900 euro. Ricordo che tutte queste opportunità che stiamo vedendo velocemente qua con la nostra Lara le potete visionare con tutta calma sul nostro sito internet www.cittadelladellauto.it Sul parco auto Ghinzani Store trovate tutte le nostre opportunità, le soluzioni migliori che state cercando, le soluzioni finanziarie e potete addirittura prenotare o una visita o addirittura prenotare l'auto stessa con una piccola caparra. Una delle grandi novità di questo mese è un nuovo marchio che rappresentiamo qui in Ghinzani Store a Bergamo e parliamo di Ford, sempre una vettura selezionata dal gruppo Spotty Car. Partiamo con questa magnifica EcoSport, il piccolo crossover di casa Ford, motore 1.500 diesel, 125 cavalli in matricolazione del 2019, allestimento Business. Vettura che ha solamente 20.000 km, anche l'allestimento Business è ben completo, parliamo di sensori anteriori, posteriori, climatizzatore automatico, monitor, touch con connettività. È una vettura veramente che vi invito a venire a provare qua da noi in salone. Vi ricordo, previ appuntamento, mi raccomando, fissate l'appuntamento qua da noi tramite i nostri web, tramite i nostri telefoni diretti e venite a provare questa magnifica EcoSport 1.500 diesel. Prezzo, parliamo del prezzo Lara, 17.900 euro, solamente 17.900 euro per questa magnifica EcoSport Business. Finanziabile con anticipo zero e le prime 36 rate da 179 euro al mese. Anche su questa vettura possibilità di un pacchetto assicurativo furto, incendio, attivandalici, calamità naturale e cristalli con un delta circa di 25 euro a rata e parliamo di un pacchetto assicurativo che prevede addirittura 4 anni di valore a nuovo. Quindi per 4 anni questi 17.900 euro, il prezzo di 17.900 euro, viene protetto dalla nostra assicurazione. Anche in casa Ford abbiamo delle vetture dedicate ai nostri cari neopatentati e parliamo di Ford Fiesta. Allestimento Titanium, ne abbiamo disponibili in tre colorazioni, argento, bianco o nero, che potete revisionare sul nostro sito internet. Motore 1100 benzina, allestimento Titanium, quindi cerchi lega, sensore di parcheggio, bluetooth, fendinebbia, presa USB, connettività con il nostro telefono, cruise control, climatizzatore automatico, insomma una vettura veramente fantastica e completissima. Prezzo a partire da solamente 11.900 euro. Sono tutte vetture del 2019, sempre selezionate da Spoticar, come già vi ho detto, per tutte le altre nostre precedenti opportunità offerte. 11.900 euro per guidare questa magnifica Ford Fiesta 1100 Titanium. Ricordo le colorazioni, bianca, nera, argento, tutte vetture del 2019, chilometraggio medio intorno ai 15.000 chilometri. Anche per quest'auto, opportunità d'acquisto con finanziamento e una delle nostre soluzioni, la più diffusa, la più venduta, è quella con anticipo zero e 36 minirate, le prime 36 minirate da 119 euro al mese. Opel Crossland allestimento Ultimate, parliamo del crossover, del piccolo crossover di Opel, disponibile nell'allestimento Ultimate che qua stiamo presentando, ma abbiamo anche altre versioni, sia Innovation che Advance, cambio manuale, automatiche, benzina e diesel. Sono veramente tante le opportunità per quanto riguarda l'Opel Crossland. In questo caso Ultimate, 1.230 cavalli, benzina, vettura con solamente 15.000 chilometri, nuovissima, del 2019. È una vettura che presenta già di serie fare a LED, cerchi diamantato nero, sensori anteriori, sensori posteriori, sistema di sicurezza, anticollisione, antisuperamento carreggiata, navigatore. Insomma, sono veramente tanti gli accessori di quest'auto, vi invito veramente a venire a visionarla qua da noi. Prezzo unico, introvabile, l'abbiamo solo noi, 15.900 euro. 15.900 euro per questa magnifica Opel Crossland 1.230 cavalli Ultimate. Dopo la Peugeot 2008 non può mancare la Peugeot 3008. In questo caso vediamo una magnifica Peugeot 3008 GT Line automatica, motore 1.530 cavalli di temp del 2019. Questo mese abbiamo veramente tanta disponibilità di Peugeot 3008, a partire dai 1.230 cavalli Allur fino ad arrivare alle magnifiche 1.530 cavalli automatiche GT Line. Colore Hurricane, introvabile, chilometri 19.000, vettura del gennaio del 2020, con chiaramente 12 mesi di garanzia, minimo 12 mesi di garanzia Spoticar. Sapete benissimo che si tratta di una vettura che supera i 38.000 euro di listino, presenta di serie dalla telecamera posteriore, sensori anteriori, posteriori, sistemi di anticollisione, antisuperamento carreggiata, cruise control adattivo, fari a LED, vettura magnifica, veramente da venire a visionare qua da noi. Prezzo 27.900 euro. Tutte le varie opportunità di Peugeot 3008 le potete, io sarò noioso ma ve lo ripeto, le potete vedere sul nostro sito e prenotare soprattutto sul nostro sito. 27.900 euro per questo mese, come abbiamo già detto, extra sconto di 1.000 euro se il cliente finanzia l'acquisto qua da noi. Quindi avete l'opportunità di acquistare questa magnifica auto con solamente 26.900 euro, oltre 10.000 euro di sconto da listino. Se state cercando un magnifico crossover non potete che non innamorarvi di questa magnifica C3 Aircross, una delle tante C3 Aircross che presentiamo qua da noi in Ginzani Store. 1.200 benzina, 110 cavalli in questo allestimento fill, vettura del 2019 con solamente 5.000 chilometri, praticamente una vettura che non chiamere usata ma diversamente nuova, climatizzatore, bluetooth, presa usb, sensori di parcheggio, auto un prezzo esclusivo di 16.900 euro. Magnifica l'auto e magnifica il prezzo. 16.900 euro per questa nuova C3 Aircross, alla fine è veramente una vettura pari al nuovo. E si tratta di una delle tante opportunità di C3 Aircross che abbiamo qua da noi in pronta consegna. motori benzina come questa oppure diesel 1.500, 100 cavalli o 120 cavalli. Ne abbiamo anche in arrivo un paio con cambio automatico introvabili, sempre vetture aziendali del 2019 a un prezzo di 17.900 euro che presto troverete sul nostro sito. Zero consumi, zero emissioni, parliamo di C0. Vettura completamente elettrica, chilometro zero del 2019, prezzo incredibile di 13.900 euro. Parliamo di un'auto che supera i 30.000 euro di listino e che noi proponiamo assolutamente 13.900 euro. Sempre finanziabili. C0 è una vettura unica, completamente elettrica, una ricarica di circa 100 km di autonomia, con ricarica veloce in circa tre ore, cerchi in lega, fendinebbia, clima automatico e cambio automatico. Gli accessori presenti su questa magnifica C0, Seduction. 2019, 2020 e 2018 sono i tre anni, i tre chilometri zero che abbiamo disponibili in salone in pronta consegna. Siamo usciti un po' sul nostro parco auto per vedere le altre tante opportunità che non abbiamo visionato all'interno del nostro salone. Partiamo subito ad esempio con queste 2008, tanta è l'ampia disponibilità delle 2008 prima serie. Parliamo tutte sempre di vetture selezionate da Spoticar, il brand di Peugeot, Citroen e Opel, il brand delle vetture remarketing di Peugeot, Citroen e Opel. Come vi dicevo, vetture del 2019 con chilometraggio che va dai 10 ai 20.000 km, tutte in pronta consegna, tutte con garanzia 12 mesi e tutte in allestimento all'Ur. Prezzo a partire da 14.500 euro. Continuando la nostra camminata all'interno del nostro parco auto, passiamo alle Peugeot 2008 nuova serie che abbiamo già visto all'interno del nostro salone e qua proponiamo altre opportunità sempre a chilometro zero, sia automatiche come questa magnifica Allure AT8 130 cavalli, che manuale come questa magnifica 1.2 benzina turbo 130 cavalli in questo colore esclusivo. Continuiamo a vedere la carellata di 3.800, abbiamo parlato prima, vi abbiamo appunto detto della ampia disponibilità in questo momento di 3.800, Allure, Business, GT Line, Grigio, Nero, Grigio Hurricane che abbiamo già visto all'interno, tutte vetture del 2019 aziendali che partono dai 25.900 euro fino a un massimo di 27.900 euro come prezzo, chilometraggio dagli 8 ai 30.000 km. Anche per questa puntata il tempo a nostra disposizione è terminato, è volato ma è terminato, io vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram e soprattutto sul nostro sito internet in continuo aggiornamento, lì potete trovare sia le vetture presto in arrivo qua da noi, sia le vetture già disponibili in salone in pronta consegna e vi ricordo potete prenotare la vostra prova su strada o addirittura anche prenotare direttamente sul sito la vostra vettura preferita. Per il momento è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata, saluti da Andrea e da Lara.